Allora, cosa mi ricordo? Mi ricordo tanti grevionini blu, a cui non ero abituata, e poi mi ricordo che ero seduta davanti al bambino che non conoscevo, ma a cui sapevo di aver rubato un carrile al mattino l'anno precedente all'asilo. Se tu potessi, che cosa diresti al governo italiano, l'anno prossimo presiede il G8, sul fatto che ci sono 72 milioni di bambini che non possono andare a scuola per mancanza di insegnanti? Mi sono ricordata la prima pagina, anzi la copertina del sussidiario della mia scuola liberale, che era una poesia di Bertolt Brecht, che cominciava con Impara bambino a scuola.